scende il cancionetto per la finale A della categoria G1 di 2 ed è ancora Matteo Mariani davanti a tutti per il calazzo 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 e in terza del campo avrei finelyità che erano simulati se la prima lina si porta nel calazzo per il 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 calazzo e la finale A della categoria G3 e G4 al calzzo di palazzo Giovani Maria Cai embeddedno Lari Daniele Pisti